Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video Siamo qua, il primo episodio delle sponsorizzazioni Io voglio sponsorizzare FranCTV Un canale che fa molti video di Clash e Minecraft E qualche volta vede anche GTA Unico iscritti Include dei canali Ecco Questa è una versione abbastanza brutta Aspetta ragazzi, devo tornare su A mio suo canale E fa abbastanza visualizzazione È meglio finire su YouTube Silenzio via in camera E la detta E questi video Eee Ho fatto un video di.. Di Sara Di Io e morta Non Come Io Che Dicholare E Il Questa è un video E vi consiglio di iscrivervi il mio clan ha iniziato da poco youtube e ha due iscritti vi consiglio di iscrivervi buona giornata vi auguro buona giornata ciao 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 ciao